il treno regionale 55 60 di trenitalia proveniente da rovigo e diretto a verona porta nuova delle ore 5 e 44 è in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a badia polesine castagnaro villa bartolomea legnago cerea bogolone isola della scala buttapietra il treno regionale 55 61 di trenitalia proveniente da legnago e diretto a rovigo delle ore 6 e 19 è in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a fratta costa il treno regionale 55 65 di trenitalia proveniente da verona porta nuova e diretto a rovigo delle ore 8 e 19 è in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a fratta costa il treno regionale 55 94 di trenitalia proveniente da rovigo è diretto a legnago delle ore 19 e 44 è in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a badia polesine castagnaro villa bartolomea